La regione Abruzzo resta in arancione ma solo per effetto del decreto Draghi che ha abolito il giallo in questo periodo. In provincia di Teramo da lunedì entrano a far parte dei comuni con maggiori restrizioni in Musciano, Santomero e Santeggi della Vibrata, mentre a seguito dell'ultimo report redatto dalla AS di Teramo tornano in arancione Roseto, Pineto e Silvi, che erano stati i primi comuni terramani a diventare rossi. Limitazioni confermate per Colonnella, Tortoreto, Martinsicuro, Nereto e Morrodoro, le misure restrittive adottate in molti comuni stanno dando risultati positivi. L'incidenza media settimanale nel Teramano è scesa ma questo non vuol dire che possiamo abbassare la guardia, così come è sottolineato da Sabatino di Girolamo, sindaco di Roseto degli Abruzzi. La notizia è buona perché la AS l'ha segnalato un miglioramento della situazione dei contagi in questa fascia costiera a sud della provincia terramana che era stata assimilata all'area metropolitana della Amica Pescara. Adesso quindi la situazione è migliore e da lunedì passiamo in una zona arancione classica, diciamo così. Cambierà poco per la verità perché noi in virtù dell'ordinanza Marsilio avevamo un regime rosso attenuato e quindi cambierà poco. Ho raccomandato ai miei cittadini però di non abbassare la guardia perché con questa temperatura ancora così fredda se ci lasciamo andare rischiamo di far riaumentare i contagi. Quindi continuo a raccomandare prudenza a tutti perché non c'è da abbassare la guardia. Il freddo è amico purtroppo del virus e quindi bisogna stare attenti. Sabato prossimo sono un po' preoccupato per il prossimo fine settimana che non è coperto dal rosso di Pasqua. Per quanto riguarda Roseto che ha un problema molto serio di Movida cercherò di concordare con le forze dell'ordine una massiccia presenza per garantire che non si ripetano gli assembramenti di un mese fa che poi sono stati secondo me alla base di questo aumento dei contagi. Non abbassare la guardia perché il pericolo ancora c'è pur nella soddisfazione per questo ritorno in zona arancione. Grazie. 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 Grazie.